Gangia-Frenze contro Telo in filo, il conteggio è di 2 a 1 per i blu Si va tirata una rimessa del fondo da Armando Avolio, quest'oggi tra i valvi, in un ruolo inedito Guarda, non ha messo un numero qua dietro? No, io se li conosco, Affkin Va bene Con la telecronaca anonima, con la Cedrola fra le linee La valla verso Orrentino, che potresti usare la valla a Cedrola, si perde il contrasto Se vuoi ripartire il conteggio è il sinistro di Bassano Che si muore sul fondo Si va tirata con il rinvio ad opera di... E questo lo puoi vedere, il portiere è il primo... Sì, è scritto in giroclifico però... Delgado Delgado Non ho visto niente, però la rimessa è per i rossi Così Ma come non l'ho visto, così C'è anche la prova tv Faci concitati di gioco, non è vero, non si stanno muovendo Andrò Cedrola, la battuta Si dà... Pazzito Fa la pesa con le mani No, no, è bellissimo però Non lo mantengo questo C'è Moio che... Si finisce la palla Faci un po' ambigue Cedrola a questa rimessa laterale Palla in mezzo, deviata Sorrentino si impossessa della sfera Andrà a battere lui questo giro dalla bandierina Che personalità Si inserisce Cedrola, palla bassa E' proprio per Cedrola che mette la gamba Ma non riesce a deviare nella porta avversaria Sfortunati in questa fase i rossi Ed è di nuovo calcio d'angolo Sorrentino alla bandierina Poi a servire Cedrola corto Cedrola in fotocopia Che ha poca fortuna Quindi rimessa per i tele in filo Con Avolio che va a cercare L'esterno sinistro Capita in bassa Capita in bassa Con la Cedrola fra le linee In questa posizione inedita Il tiro di Cedrola La parata miracolosa di Avolio Ricordava a Jovic Vecchio stile Seguiamo quest'ultima azione Prima di chiudere il collegamento Stop palestemente di mano di Cedrola Ma l'arbitro ormai è l'insegnante Del bel calcio Lascia proseguire Cedrola L'azione offensiva Mamma mia Delgado C'entra un avversario Stavoia Si esibisce in uno spettacolare numero Seguiamo l'ultima azione Per chiudere il suo collegamento Cedrola Rimessa a cercare di Sorrentino Provare a destraggiarsi In mezzo a due Fallo in fallo laterale Seguiamo quest'ultima azione Sorrentino via Cedrola Farò lo scambio Per le vie centrali Il destro da centrocampo Lo respinge clamorosamente 2 a 1 Vedete l'infilo Chiudiamo qui il nostro collegamento Il destro da centrocampo happening Il destro destro da centrocampi